ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mia gas station con pumping simulator 2 boh diciamo che gli operai siamo al massimo ho assunto altri due operai così che siamo al massimo il nostro capitale in banca sale vedete adesso sta scendendo ma comunque è in abbastanza in salita siamo a 120 mila e mi rimane da aggiornare solo un uno no 222 come si chiamano pozi petroliferi e poi dopo abbiamo un po di roba da aggiornare qui e poi ragazzi abbiamo finito dov'era qua abbiamo qui che dobbiamo non mai spendere un 23 mila però quello non è un problema qui un 34 mila secondo me anche qui comunque con 10.000 qui abbiamo fatto tutto per quanto riguarda invece la mia capacità li ho portati già al massimo e lì ci siamo in fattoria il fattoria gioco troppo a farming in pompa di benzina qua non c'è più niente da aggiornare siamo al massimo come siamo anche al massimo per quanto riguarda casa e che significa siamo a posto andiamo a vedere è l'aeroporto perché è un po che non ci vado sono tornati sono tornati vedete un po qua tutti e due andiamo a prenderci i soldi è perché ma no forse li devo far partire meso scordato ragazzi dall'ultima volta che ho registrato bisogna farli partire vediamo se abbiamo del materiale da farli andar via così carichiamo facciamo il bel carico guardando un po quanta roba peccato poter caricare solo quattro pacchetti alla volta vabbè ma ce la faremo faremo un po avanti indietro un paio di volte portiamo tutto dai nostri piloti e esporteremo subito del materiale qui siamo diventati i primi fornitori del venezuela non forniscono più loro venezuelano hollanda attac loro possono già decollare ok perchè quanto ne ha questo qua ne ha solo cinque ne devo avere sei l'altro quanto ne ha uno ne ha sei possiamo fargli il pieno e via ok speriamo che non fanno fuori anche questo pilotino qui quando diamogli l'ultimo qua questi li buttiamo qui e facciamo decollare anche lui facciamo il pieno via ok è in arrivo sì bravo andiamo a caricarci il resto della roba la mettiamo qui così manco per fare 50 viaggi dopo ok beh direi che questi li metto qui dai vendiamo possiamo vendere anche un po qua li mettiamo qua uno scaffale tu butti la roba per terra ma perché buttare la roba per terra io non ho mica capito questa cosa questa non riesco a prendere qualcosa vabbè adesso metto qua ok la roba che mettono per terra che buttano per terra non l'ho capito io come come fare a non farglielo pare tipo qua gli guardiamo le tette da qui ragazzi è lo spazio sì questi non hanno niente a terra perché quelli sì sta cosa non l'ho capito vabbè lasciamo perdere dai andiamo a comprare una macchina vediamo un po come si è messo con le macchine compriamo un bel macchinone macchinone dove sei l'albero qua ma ammazza ma ammazza l'albero cosa c'è qui prendiamo prendiamoci la specie di lamborghini vediamo quanto vuole dice 9000 vediamo se ne possiamo offrire 12 proprio facciamo proprio schifo benissimo i 12 si è accontentato allora qua ci dovrebbe essere un pozzo vediamo se sto pozzo qui è aggiornato dov'era dovrebbe essere qui no ok allora aggiorniamo il pozzo così quando ce n'è qua aspetta andiamo a vedere intanto quanto quanto ce n'è il 70 per cento mandiamo la pompa di benzina manco paccato comprare della roba noio ok anche tu sei a posto allora me ne manca adesso uno e dopo dovrei averli fatti tutti no qual è quello che mi manca secondo me mi manca quello vicino casa mia andiamo a vedere sta cacchio di cosa ma sbaglio sempre no secondo me quello che manca è questo andiamo a vedere adesso facciamo la scommessa quante volte si batto da qualche parte secondo me spesso adesso manca una volta adesso qui ci sono le macchie dobbiamo stare attento sto diventando pratico io sto diventando praticus adesso dopo che finisco di dire praticus è bravo pompa lo vedi qua wow 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 cosa ho detto che stavo diventando wow cappottami e adesso mannaggia eeeh eeeh io per fortuna che stavo diventando bravo eh andiamo a prenderci vediamo un po' come siamo messi con questo coso qua ok non dovrebbe essere qua vicino per fortuna che è un sub è il sub dovrebbe farcela no o bru no 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 altrimenti qua non vengo più fuori poi devo andiamo via che già ci siamo cappottati alla grande albero oh l'albero non l'abbiamo preso bene e l'albero non l'abbiamo preso ok ci manca solo questo e poi li abbiamo fatto tutti e quattro ok non è male eeeh andiamo a prendere la macchina mettiamola in vendita vediamo se possiamo recuperare qualche centesimo dai e abbiamo fatto un volo assurdo poco fa wow wow rallento un po' perchè qua un bel volo veniva fuori comunque ah fuoristrada potente qua 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 adesso tampono qualcuno wow frena giacomino frena che vuoi perchè non la pagano la fattura i soldi ci sono ok basta prima che facciamo un danno totale alla macchina mettiamola in vendita va eeeh quando la mettiamo facciamo 20 possiamo provare c'è qualcuno disponibile che se c'è qualcuno disponibile possiamo venderla vediamo come siamo messi qua dentro ok adesso gli stocker sono tanti e sta lavorando bene probabilmente dovremmo ordinare qualcosa in più o lasciamolo così l'importante è che i miei frigo sono pieni cosa che invece non è guardate un po' questi sono completamente vuoti dobbiamo lavorare sulla questione di secondo me dobbiamo molto più bibite molti ma molti di più e qua qua è pieno si qua è pieno qua invece qua è abbastanza pieno anche qui qui è full secondo me dobbiamo prendere molto ma molto più bibite perché così almeno ci vanno tutte vediamo se possiamo incassare i soldi dell'acqua come siamo messi ok prendiamoci sti quasi quindi quasi 60 euro fa mica schifo dai ok qui a basare dobbiamo fare un po' di spesa perché durante la notte ragazzi o abbiamo avuto un altro figliolo è visto che abbiamo bisogno di materiale qua perché attivano i bambini poi si metterò a gridare rompere marones prendiamo anche qualcosa per la per la nostra ragazza che è stata così brava stanotte ok occhi pops 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 allora torniamo a casa che diamo un po' di di roba qui ai figlioli uno due tre mettiamoli qua dov'è ops allora uno è lui gli diamo qualcosa che è in fase di crescita gli abbiamo già dato un nome prossimo giro possiamo già mettere al lavoro invece l'ultimo nato qui dov'è? gli avevo già dato qualcosa sì ok lui è a posto lei non gli posso dare niente per adesso ma questo scusa eh tu no e tu neanche beh lo vogliamo aspettare dai facciamo passare un po' la notte poi vediamo ok di nuovo qui a pompa di benzina vediamo come siamo messi allora e frigoriferi e bibite siamo leggermente scarsi di bibite il che significa quanto ce ne va qui? 80 e ne abbiamo quattro quattro di questi dove ce ne vanno 80 quattro e tre sette ops eeeh allora cinquantadue sono cinquecentoventi di bibite cinquecentoventi di bibite più questi che ce ne vanno eeeh 48 eeeh direi che le bibite le facciamo le aumentiamo aspetta che mettiamo qua ok eeeh prendiamo questo prendiamo questo 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 e questo andiamo a fare un po' la il pieno qui uh ma abbiamo anche troppi secondo me adesso gli diamo un'occhiata anche ai loro sacchiotti perché mi sembrano troppi ok ok allora di questi 35 di questi centoventotto wow ok ok diamo un'occhiata alle bibite vediamo un po' intanto quante ne abbiamo perché mi sa che abbiamo un po' troppa roba eeeh da un lato e troppo poco roba dall'altro lato le bibite abbiamo 278 di cola 253 però il totale a me interesserebbe vedere nel frigo quanto ce n'è eh si se andiamo a vedere qua cola 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 ok poi cosa facciamo eeeh caffè e caffè freddo dove sono? cola 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 e già sono 165 facciamo pieno a 2 però non ho capito perché dobbiamo secondo me uno stalker metterlo solo a riempire i ste cacchi di cosi e gli altri che fanno tutto il resto secondo me adesso impostiamo fammi liberare di ste 180 coca cola qui ormai gli facciamo il pieno vediamo un po' dove arriviamo ci vorrebbe una specie di tasto super veloce qua ce ne vanno ancora ok facciamo una cosa e allora eeeh collaboratori uno che non licenzio allora vediamo poi gli stalker stalker che non licenzio sono quelli che ho messo il nome io abbiamo un henry ma capito aspetta william però è a pagamento cioè william non uno di quelli che andrà licenziato prima o dopo chiamiamolo di nuovo ryan così almeno sappiamo che ryan va licenziato uno di quelli che non vanno licenziate henry non va licenziato etan non va licenziato maverick non va licenziato sì questi qua sono quelli diciamo i personaggi di tom cruise avete già avete ragione ok andrà licenziato prima o dopo quando l'ammazzeranno enox junior che diventerà uno stalker o un benzinaio perché i piloti me li ammazzano ragazzi non ne vale la pena allora maverick c'è facciamo facciamo etan dettagli che andiamo a cambiare un po' la situazione no allora può piazzare i cartoni i scaffali non li fa questo non ok questo è quello delle droghe ok può riempire i cosi i cosi i dosatori no ma allora organizzare i cartoni si può raccogliere i cosi piccoli si può riempire le macchine si può riportare questi indietro no ok e lui fa questa roba qua tutti i rest tutti gli altri itan fa questa cosa qua maverick questa cosa qua non la voglio tu non devi fare questo che ci pensano le ragazze per far questo non devi fare questo e non devi fare questo per caso che non c'è un copia in colla eeeh gli altri questo possiamo farlo pure eeeh ok ok questo no questo no questo no che ci pensa l'altro e questo bene ok poi vediamo un po' ne abbiamo ancora quelli che possiamo licenziare le facciamo fare tutto però vediamo se riusciamo a riempire questi cacchi di cose etan sta facendo proprio quello vedete che viene da lì ok perché il materiale ce l'abbiamo eeeh ah vedete che funziona vedete un po' che sta riempendo tutto qui dov'è etan etan ryan ryan uooo eeeeCon dov'è etan che boccia un casino co ragazzi ho 2000 operai eeeeee eeeeeee ok 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 vabbè eeeh lasciamo perdere andiamo a vendere la macchina dai oh addirittura ce ne sono 4 qui eeee oh cos'è coppia di gemelli fico coppia di gemelli guardate un po' ah allora tu adesso voglio il prezzo pieno vediamo un po' questo non me li dai 20? no se tu non mi dai 20 perchè una volta che ci sono qua i ragazzi il prezzo aumenta un pelo no tu quanto mi dai? so io quanto ti darei vedete che quelli hanno offerto 16 questo ha offerto i 17 vediamo se mi da 19 e mezzo dai facciamogli uno sconticino yeah e siamo di nuovo quasi a 75.000 i soldi qui adesso aumentano alla grande vediamo se c'è qualcuno che vuole una limonata limonata niente facciamo il pieno alla limoneta prendiamo coso? limonata ok andiamo a dare un'occhiata di nuovo ai distributori ok qua sono pieni beh questi li avevo riempito io dov'è Ethan? allora qua distributori non ce ne sono non ci dovrebbe essere nessuno però ah Ethan dove sta andando? ah è distributori sta riempiendo i distributori benissimo questo va bene ogni distributore delle caramelle quanto prende? così perché io ho 500 caramelle però ne prende 100 ce ne sono 4 qui e 2 A sono 600 dobbiamo montare la cosa delle caramelle allora Marco dove è Marco? Marco qui le caramelle ne dobbiamo prendere qualcosa in più facciamo 700 di caramelle tutto il resto lasciamolo così vediamo un po' forse dobbiamo aumentare un po' il materiale perché vediamo allora vediamo cosa c'era qua eeeh qua più veicoli cosa facciamo? più veicoli ho più capacità ho solo la capacità da aumentare e più veicoli facciamo per adesso più veicoli 1000 1200 sono 2002 3006 abbiamo portato tutto al massimo e visto che ci sono ragazzi facciamo anche qua dai 1000 1200 dobbiamo arrivare fino a 20 qui ok facciamo restiamo qua che dobbiamo arrivare fino a 20 non vorrei capire di preciso quanto a quando arriveremo a proposito Marco gli devo dire che deve ordinare il diesel prima ma il carburante ogni volta mi finisce si questo può fare un po' di tutto facciamo che quando arriva al 60% lui prenota della roba così non restiamo mai a secco di carburante ok ma si dai va bene questo va bene vediamo se c'è qualcosa da portare qui nei frigoriferi guardate un po' adesso gli gli stalker che lavorano bene megan e kate puliscono abbastanza bene brave brave ragazze volevo vedere se c'erano i gelati vediamo un po' quanti gelati qua poco gelato 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 gelati qua l'unico qua eh no c'è pure questo e questo oh è questo erano tutti qua dentro i gelati alla fine poi ne abbiamo di gelato mettiamolo qua dentro qua è tutto pieno mi sa che com'era come si chiamava Ethan fa un gran lavoro no Ethan lavora bene ok mi vende la tua macchina vediamo un po' quanto vuole questo oh ne vuole 16 e 6 noi gliene offriamo 10 no 10 non va bene 11 speriamo che non si incazza perché questo qua mi pare un bello incazzato no 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 ciao te la tieni la macchina vediamo questo quanto vuoi tu 18 dai facciamo 12 va perché altrimenti questo non ce la vende la macchina beccato sgommatina abbiamo preso a 12 se riusciamo a venderla 15 16 4 mila tonde che 4 mila tonde wow ragazzi guidare non è non è proprio il mio forte che guidare non è proprio il mio forte se qualcuno mi vede mi ritira la patente però non glielo diciamo facciamo finta non diciamo oh 160 milla dollari sarebbe male non diciamo niente a nessuno non fate gli spioni mi raccomando bene ragazzi io adesso vado a casa che è ora di cena sono le 8 ora di cena poi piccola pennica e noi ci rivediamo domani cioè domani gioco o fra due giorni invece in realtà perché giovedì ci sarà un'altra puntata di pumping simulator probabilmente l'ultima pompata pompata l'ultima pompata no vabbè ragazzi sono cotto l'ultima puntata di pumping simulator 2 vediamo come ci mettiamo sono nell'ultima e la penultima ma siamo vicini ormai ragazzi siamo vicini ok ragazzi salutone al prossimo video ciao ciao